Siamo in presenza del dottor Gottardo di Generali Geniot che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Dottor Gottardo, qual è l'ambito di azione di Geniot, questa nuova società della famiglia Generali che dedica allo sviluppo di servizi innovativi collegati alla Connected Insurance? Geniot nasce dal gruppo Generali, è una società posseduta al 100% dal gruppo con l'obiettivo di fornire servizi di connettività ai clienti e al gruppo. Geniot ha due anime, un'anima di telematic service provider, è un vero e proprio fornitore di tecnologia e gestore dei dati dei clienti. Dall'altra parte ha l'obiettivo di sviluppare degli ecosistemi e delle partnership in ambito connesso, mobilità, home, health, per essere sempre più vicino al cliente come da nostra strategia. Si parla sempre di più, come ha già accennato lei, di ecosistemi connessi. Quali sono i vantaggi derivanti dall'utilizzo di questi ecosistemi, appunto come detto prima, connessi? Beh, sicuramente una maggiore conoscenza del cliente, una maggiore vicinanza al cliente, perché il cliente ovviamente è un cliente generale, ma è un cliente anche di molti altri partner, ormai molti partner globali, è cliente e utilizza molti servizi che sono comuni anche ai servizi che può offrire Generali Geniot, quindi la mobilità condivisa, l'auto connessa, i wearable, le polizze connesse per il casa e quindi trovare partner che lavorano con noi negli stessi ambiti di adozione di queste tecnologie è importante appunto per migliorare la conoscenza del cliente e offrire un servizio sempre migliore.